La parte ostia ponente è destinata dal piano regolatore a ambito di valorizzazione. Era in questo modo che Alemanno aveva trovato le cubature per fare il grande waterfront, per fare le piste da sci, perché pure questo Ostia ha vissuto, non dimentichiamoci le piste da sci. In questo gli indirizzi metodologici del PUA non dicono nulla, dicono addirittura, sottolineandolo, e ha fatto bene Angelo a sottolinearlo, che questo non è un piano urbanistico. Loro evitano di entrare nell'elemento che dice tutto sul futuro di Ostia, loro danno per scontato che qui ci sia la possibilità di fare un ambito di valorizzazione, ancora, nonostante gli scandali, e che dunque qua possono arrivare da 10 metri cubi, permettetemi di dirlo, a un milione di metri cubi. E' esagerato, non sono esagerato perché intorno a Piazza Sirio ci sono come sapete due grandi square centrali, quella è roba nostra, è terreno comunale, io lì a voglia se faccio un ambito di valorizzazione come prevede il piano regolatore, quindi lì ci sarebbero teoricamente, se non stiamo attenti, e per fortuna con oggi stiamo attenti, ci sarebbero le possibilità di fare un'ulteriore vergognosa speculazione ai danni del lungomare di Ostia. Seconda questione, ancora più grave, vi darò una quantità devastante, il lungomare Vespucci, sulla sinistra, andando verso sud del mare, ha tutta la gigantesca area di parcheggio, su area nostra, anche quella è roba nostra, io ho fatto il conto che sono 30 ettari di terreno comunale, complessivamente liberi, utilizzati legalmente e illegalmente per parcheggio durante la stagione estiva, ma insomma lasciamo perdere il ripristino della legalità, quello non fa parte del DNA dell'amministrazione. Quell'area è destinata a verde pubblico così come è destinata a verde pubblico il litorale, caso unico in tutto il mondo, non c'è un piano regolatore che destini a verde pubblico l'area pubblica, dei maniali, delle spiagge, il piano regolatore di Roma l'ha fatto nonostante le nostre proteste, l'ha mantenuto, quindi c'è la destinazione a verde pubblico che è edificabile nel Comune di Roma e è verde pubblico anche la parte dei 30 ettari che vi dicevo. L'indice di piano regolatore delle aree a verde pubblico, non ci crederete, è 0,5 metri quadri su metri quadri, sarebbe un metro cubo e mezzo su ogni metro quadro. Io ho fatto il conto su 30 ettari, ci stanno 150.000 metri quadrati, che sono 450.000 metri cubi. Allora il maestro Ceterna ci aveva sempre insegnato che erano i 100.000 metri cubi dell'Hilton, avevano sfregiato completamente il panorama della Roma storica. Noi qua abbiamo quasi 5 abberghi potenzialmente, potenzialmente lo togliamo perché se c'è chi dice che in questo modo si ricostruisce il waterfront, dobbiamo stare attenti che l'ennesima speculazione non vada avanti. Io chiudo soltanto dicendo questo, cioè Ostia ha bisogno solo di un segnale culturale che finalmente il lungomare è lungomare ma non è lungomuro, il conio è di Angelo Bonelli. Dobbiamo cominciare a demolire, ovviamente salvaguardando le attività private, io sono il primo perché so che quelle sono un elemento della ricchezza del luogo di Ostia, ma dobbiamo cominciare a demolire tutte le strutture, a cominciare dai muri, che impediscono la vista del mare. La bellezza di Ostia, il futuro di Ostia è davvero sull'utilizzo di questa risorsa straordinaria. Se continuiamo a mantenerla con l'abusivismo dei muri, con l'abusivismo delle strutture, con l'abusivismo delle piscine, noi non vedremo mai la luce. Questo è un luogo che può avere un futuro economico infinito e lo so perché molti giovani hanno cominciato a investire in piccole attività commerciali, ristoranti, eccetera. Dobbiamo aiutarli e per aiutarli dobbiamo battere per sempre l'abusivismo. Aggiungo a quello che diceva Angelo, c'è un articolo che addirittura, ovviamente sempre indirizzi metodologici, poi vedremo, che dà l'altezza degli edifici da costruire per rifare il voce a 5 metri. Non esiste nessun'altra parte d'Italia. Se andate a Rimini, sapete che lì gli edifici sono molto bassi. È vero che c'è la parte di Viareggio dove ci sono. Ma lì è un fatto storico, cioè un fatto ormai storicizzato che sta lì dall'inizio del secondo dopoguerra. Ad Ostia non c'è stato nemmeno il coraggio in questi indirizzi metodologici di dire basta con lo scempio che non vedo più il mare. E allora è su questo che dobbiamo lavorare. Vi ringrazio. Ultima cosa, grazie Paolo. Sapete che Ferrara ha presentato la mozione, che tra l'altro non so se è stata approvata, la mozione che chiede alla Regione Lazio di non effettuare la valutazione ambientale strategica. Adesso non so, per chi non è per gli addetti a lavori sa che cosa significa, comporta. La valutazione ambientale strategica è importante anche da un punto di vista che riguarda la partecipazione dei cittadini. Perché entri dentro un meccanismo partecipativo, delle osservazioni e tutto questo livello di centralizzazione tra l'altro di un PUA che è stato fatto all'interno di segrete stanze che non ha coinvolto i cittadini. Sapendo questa amministrazione che sulla vicenda del lungomuro c'è stata una mobilitazione trasversale della popolazione, una mobilitazione di associazioni e non si è avuto la volontà di coinvolgere e dire come vogliamo andare, come se fosse un fatto prettamente privatistico. Poi abbiamo visto le norme e questa cosa della vostra è un fatto molto molto grave, anche perché voglio dire, e io già so l'obiezione che Ferrara potrebbe, parlo Ferrara perché è il primo firmadario, non perché mi sia antipatico, è il primo firmadario la mozione. Anche a Pomezia e a Fiumicino è stata fatta l'esomero della VAS. Bene, ma non si vorrà mica paragonare l'impatto, la consistenza ambientale di quello che è rappresentato oggi l'occupazione degli stabilimenti sul mare rispetto a quello che c'è a Pomezia e a Fiumicino? No, ecco, io spero che la regione vada avanti con la VAS. Posso aggiungere una cosa? Perché guardate, questo è fondamentale, cioè noi abbiamo omologato il lungomare di Ostia, che è il futuro di questo pezzo di Roma, l'abbiamo omologato a Torvajanica, cioè questa è l'idea che hanno, non sanno che qui c'è il tesoro di Ostia, che se ben governato, se ripulito dall'abusivismo, diventa veramente un gioiello per l'intera città di Roma e in particolare per Ostia. No, Ostia è uguale alla bruttezza di Torvajanica, pensate un po', hanno omologato, cioè negli indirizzi metodologici del PUA non c'è assolutamente, non toccano assolutamente il muro, rimane così da qua all'eternità. Ma c'è l'aspetto che diceva anche Bonelli prima, che è truffaldino, secondo me che parte anche dalla regione Lazio, che intanto non redige il PUAR, che è quello che dovrebbe sovrintendere, l'uso del mestiere, quindi mi puoi anche integrare su questo. La parte truffaldina, e va sottolineata, tu l'hai detto prima, è quello che viene inclobato in questa percentuale tra concessione come stabilimento e il resto libero, Castelporziano e Capococcio. Questa è la grande truffa, che parte pure dalla regione Lazio, va detta sta cosa. Non ci facciamo prendere per i fondelli, da chi si presenta bene e razzola male, perché la truffa sta lì, perché sta già a una percentuale che supera quella che dice la regione Lazio. Allora, qual è la chiave di soluzione? Che devi fare, una percentuale del 50%, secondo me è pure poco, però ma accontenterei, ci accontenteremmo del 50% se fosse per ambiti. Quindi tu mi devi considerare la parte urbana, la parte ponente e la parte levante e sud del litoriale.